Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer, oggi vi spiego come utilizzare WinRar perché ci sono persone che oggi non sanno neanche che cos'è, a che cosa serve e a cosa ci possa servire cioè WinRar non è altro che un programma che serve ad archiviare cartelle, ad estrarre altri pacchetti Rar che troviamo sui siti oppure quando scarichiamo dei pacchetti e ci esce, non lo so, ci esce un documento tipo, facciamo caso, documento per lavoro punto Rar in questo formato, in questo logo, quindi l'unica cosa che dovete fare è scaricarvi un programma che si chiama WinRar esatto, WinRar, allora in descrizione vi ho lasciato un link dove vi porterà su questa pagina per scaricare WinRar fate, scarico WinRar, scarico WinRar, scarica WinRar, scarica, una volta scaricato, eccolo qua fate esegui come amministratore, sì selezionate il percorso dove installarlo fate sempre installa, vabbè installa, una volta installato se volete aprirlo per controllare alcuni documenti vostri che avete salvato sul vostro pc che corrispondono ad un file che è punto Rar, fatelo noi possiamo direttamente fare così, per esempio, noi abbiamo una cartella, ok, una cartella allora adesso vi spiego come archiviare una cartella con WinRar, ok allora scriviamo, che ne so, facciamo youtube, cos'è, yt aggiungi ad un archivio, oppure aggiungi all'archivio yt.rar e come potete vedere si è creata un'altra cartella all'interno di questo pacchetto Rar c'è la cartella yt, ok facile, cancelliamo queste cartelle e adesso come estrarre una cartella, cioè come estrarre un pacchetto Rar vabbè queste sono le impostazioni di Windows 11 ma voi troverete direttamente, se state usando Windows 10 troverete direttamente questa scheda, se cliccate tasto destro e vi esce quella scheda estrai i file, è una sottospecie di documento che mi serviva ok, vabbè il file dice che è già esistente, quindi basta fare così una volta caricato, si è estratta la cartella ed esce questa ok, facile allora, io WinRar un momento che lo trovo in, eccolo qua applicazione WinRar tanto a voi interessa, cioè vi interessa di più estrarre, archiviare oppure archiviare, condividere i file su altri siti di condivisione ad esempio Mega, Mediafire oppure altri siti a quello servono perché se non archiviate il pacchetto in Rar non si caricherà mai sui file di condivisione ci ho provato già con una cartella normale non me l'ha data la condivisione su Mediafire quindi ho dovuto per forza archiviarlo in Rar e condividerlo quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi è stato utilissimo quindi ragazzi, ragazzi io spero veramente tanto che vi è stato utilissimo questo video quindi se vi è stato utile lasciate like al video e mi raccomando iscrivetevi al canale seguitemi anche su Twitch e sul secondo canale la porto vari video, diciamo, fuori dalla norme di YouTube diciamo così quindi lo troverete sempre sul banner del mio canale quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao